Le immatricolazioni sono aperte fino al prossimo 2 di novembre, ma intanto nella sede di staccata di Arezzo dell'Università di Siena ci si sta organizzando per far tornare gli studenti per il maggior numero possibile in presenza. Per gli spazi abbiamo ovviamente prima misurato quali fossero le capienze delle nostre aule ai sensi delle nuove disposizioni e poi abbiamo contattato diversi enti del territorio trovandoli tutti disponibili dal Comune alla Fraternità dei Laici alla Camera di Commercio che ci hanno messo a disposizione spazi che stiamo allestendo in queste ore e in questi giorni per accogliere nuovamente i nostri studenti nel giro di un paio di settimane. In questi ultimi anni abbiamo registrato una grande crescita di questa sede in termini di iscrizioni, di immatricolazioni, in termini di diversificazione dell'offerta formativa che ormai abbraccia numerosi ambiti disciplinari, dalle lingue alle scienze della formazione, dall'economia alle scienze giuridiche. Questo ci ha sostanzialmente costretto a salire di livello rispetto all'organizzazione della nostra presenza. Un singolo dipartimento monodisciplinare o settoriale non era più sufficiente a garantire una copertura e anche una gestione, un'attenzione a questa offerta così diversificata. Allora abbiamo istituito un centro di coordinamento presieduto dalla prolettrice Vicario, la professoressa Carmignani, che ringrazio, e che coordina e collega i 10 dipartimenti, sui 14 totali dell'Università di Siena, che hanno la responsabilità di gestire i corsi di laurea che si svolgono qui al campus del Pionta o più in generale nella città e nella provincia di Arezzo. Sono 12 corsi di studio che prevedono 9 corsi di laurea triennale e 3 corsi di laurea magistrale. I corsi di laurea triennale sono quelli ai quali ci si iscrive immediatamente dopo il diploma, corsi di laurea magistrale biennali sono quelli ai quali ci si iscrive avendo conseguito una laurea triennale. I temi sono vari, si va dalle lauree sanitarie, quindi dall'ambito medico-sanitario all'area delle lettere, quindi all'area umanistica, all'area giuridica, all'area dell'economia e poi all'area che era tra tradizione del Dipartimento di Scienza della Formazione, quindi la parte delle Scienze dell'Educazione. A questa offerta formativa così ampia e variegata va aggiunto la parte di Geotecnologie che è ubicata nella sede di San Giovanni Valdarno, il comune di San Giovanni Valdarno ed è completata da sei master, quattro nell'ambito delle geotecnologie, sede San Giovanni Valdarno e due qui ad Arezzo. Un master sul gioiello e un master sull'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Qual è stato l'accordo con l'università e gli spazi che avete messo a disposizione? In realtà noi abbiamo messo gli spazi a disposizione già da tre anni, in quanto il direttore dell'Istituto del Dipartimento di Giurisprudenza, il professor Stefano Pagliantini, ha avuto l'idea di portare ad Arezzo un corso di laurea, un corso di insegnamento che sta dentro il suo corso di laurea, del suo dipartimento relativo a amministrazione e sicurezza urbana, che è già attivo e ha già sfornato i primi laureati di laurea breve triennale. Gli spazi sono quelli dell'ex Casa delle Culture, nella quale partirà quest'anno un nuovo corso di laurea, che è proprio su invece impresa, ambiente e agroalimentare, quindi centrato sul tema ambientale legato alla produzione agricola, quindi alla green economy. E in questo accogliendo una richiesta che era venuta proprio dal territorio, che ha anche eccellenze agroalimentari, sulle quali vuole impostare anche della ricerca e della capacità di produrre tecnici che possano lavorare in questo settore. È un forte impegno sul quale l'amministrazione ha dato disponibilità in termini di spazi aggiunti proprio per risolvere uno dei problemi che in questo momento, con la ripartenza in presenza, si pone.